la conferenza dei presidenti dei consigli regionali riunita a roma ha approvato due documenti il primo per la piena rappresentanza di genere tenendo conto dei diversi sistemi istituzionali esistenti e il secondo sulle riforme costituzionali talento estero e professionalità sono gli ingredienti della mostra rinascita dello stile allestita da allievi ed ex allievi dell'istituto superiore aldo passoni di torino la rassegna è visibile fino al 21 marzo presso la sala incontri dell'ufficio a relazioni con il pubblico del consiglio regionale il presidente del consiglio regionale valerio cattaneo ha ricevuto il generale di divisione paolo ruggero nuovo comandante della scuola di applicazione dell'esercito di torino la fondazione savei con il patrocinio del consiglio regionale ha bandito concorso letterario racconta il tuo piemonte informazione iscrizione sul sito internet piemonteis.it sono più di 200 i mascheroni che ornano le facciate di palazzo lascaris ai volti grotteschi alle facce di satiri figure di animali ai busti che ritraggono imperatori e personaggi del passato è dedicato il tascabile volti e busti di palazzo lascaris grazie grazie grazie